ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi farò un video vediamo cosa farà oggi di osacraft con questi guattomeme PLEASE SUBSCRIBE PLEASE SUBSCRIBE PLEASE SUBSCRIBE ABOULE STUBI PLEASE SUBSCRIBE comunque dai la luce ti chiamo anche qui e la luce e la luce bravo la luce e 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 la luce akhat qua diverse 항 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Una casa... Più alto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E... Grazie a tutti. E... ... Basta... ... Prendiamo... ... 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